Giochiamo nel nostro istituto, questa iniziativa dell'istituto comprensivo Castellabate per difumo, alla quale il comune di Castellabate ha aderito attraverso il patrocinio e la fornitura di questi cappellini che questa mattina fanno bella mostra su tutti gli alunni partecipanti, i piccoli atleti in questa giornata di colore e festa qui al campo sportivo Carrano. Questa è stata una mattinata all'insegna del divertimento e dello sport, noi siamo molto contenti come amministrazione di aver partecipato a questa manifestazione e collaborato direttamente con l'istituto comprensivo di Castellabate al fine della buona riuscita della mattinata e della manifestazione dedicata allo sport. I ragazzi sono entusiasti, c'è molto fervore per queste attività e ringraziamo chiaramente la dirigente scolastica e tutta l'organizzazione che ha consentito questa bella mattinata. Lo sport è un momento importante, è qualcosa che unisce i giovani e i ragazzi, soprattutto in età scolastica. La compagnia della dirigente scolastica in questa mattinata al campo Carrano, una sinergia tra il comune e la scuola per dedicare una festa di fine anno ai bambini della quinta primaria che termineranno gli studi e anche a quelli di quarta che comunque prenderanno parte alle competizioni sportive. È un progetto sport di classe che quest'anno per la prima volta del CONI e del MIUR è stato destinato ai bambini della quarta e quinta primaria. La sinergia con il territorio è fondamentale, un'istituzione scolastica collocata in un preciso territorio ha bisogno assolutamente dell'ente locale e a dire il vero quest'anno tutte le volte che ho bussato il comune ha risposto positivamente. Io stamattina sono rimasta veramente esterefatta da tutto quello che è stato organizzato, grazie proprio al comune di Castellabate, al comune di Perdifumo, alle associazioni del territorio che hanno partecipato con finanziamenti ma alla presenza soprattutto del comune perché stamattina qui è presente la dottoressa Martuscelli, è presente il delegato allo sport, Marinelli e c'è quindi, mi sento insomma in compagnia, in una bellissima compagnia, grazie veramente per tutto quello che state facendo per la nostra scuola e per i nostri ragazzi, sono ragazzi del territorio che vanno accompagnati e vanno guidati in un momento particolare che è quello che stiamo attraversando. Lo sport è fondamentale, lo sport è inclusivo, quindi quello che riusciamo a fare noi, istituto comprensivo con lo sport e con la musica non ci riesce con le altre discipline, sono discipline formative, inclusive, fondamentali per la crescita dei nostri alunni.